La vita è un regalo prezioso e dobbiamo viverla a pieno. Non possiamo permetterci di vivere una vita mediocre, di limitarci e di tenere dietro la nostra vera essenza. La vita è fatta per essere vissuta intensamente, per esplorare, imparare e sperimentare. Non importa quanto sia difficile o quanto tempo ci voglia, dobbiamo sempre impegnarci a vivere la vita al massimo. Dobbiamo essere coraggiose, audaci e disposti a prenderci dei rischi. Solo così potremo scoprire ciò che veramente ci rende felici e realizzare i nostri sogni. La vita non è una gara, non c'è fretta. Dobbiamo viverla con entusiasmo, passione e gratitudine. Dobbiamo godere ogni momento, ogni emozione e ogni opportunità che ci viene data. La vita è troppo preziosa per essere vissuta a metà, quindi non avere paura di perdere il controllo e di vivere la tua vita al massimo. Sii coraggioso, sii audace, sii grato per ogni esperienza che ti viene data. La vita può essere piena di sfide o difficoltà, ma dentro di te c'è una forza che ti permette di superare ogni ostacolo. Questa forza è la tua determinazione, la tua passione, la tua volontà di raggiungere ciò che vuoi. Non importa quanto sia difficile la strada che devi percorrere, se credi in te stesso e nei tuoi sogni, puoi superare ogni ostacolo. Non arrenderti mai e mantieni sempre la tua motivazione alta, anche quando tutto sembra scoraggiante. Ricorda che sei una persona forte e hai le capacità di superare ogni difficoltà. Ti auguro il meglio.